La prima anestesista e la prima dottoressa che a Codogno curarono il paziente 1, l'infermiera di Cremona, che crollò stremata alla fine del turno di lavoro, che fu contagiata dal Covid per poi guarire, la cui foto diventerà uno dei simboli della pandemia. E c'è la campobassana Francesca Colavita, biologa ed appartenente del team che ha isolato il virus del Covid-19 presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, struttura di eccellenza della sanità pubblica tra i 57 nuovi Cavaliere della Repubblica che hanno combattuto il Covid e che sono stati insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, ieri nella sua visita per il 2 giugno a Codogno, aveva annunciato i riconoscimenti e oggi sono arrivati i nomi a simbolicamente rappresentare l'impegno corale di tanti nostri concittadini nel nome della solidarietà e dei valori costituzionali. 25 donne e 32 uomini scelti in tutto il Paese per atti di coraggio o di ingegno. La scelta del Presidente Mattarella rende merito ed onore all'alta professionalità e competenza di tanti medici e ricercatori che hanno dato sin dall'inizio del periodo emergenziale il loro importante e significativo contributo alla battaglia contro il Covid, ha scritto in una nota il Sindaco di Campobasso Roberto Gravina. La dottoressa Francesca Colavita, nostra concittadina, ha ricevuto un riconoscimento che gratifica giustamente in primo luogo lei, la sua famiglia e quanti l'hanno sostenuta nel suo percorso di studi e di specializzazione. La nostra comunità cittadina è orgogliosa di poter abbracciare per ora solo figurativamente la dottoressa Colavita. La ringraziamo, conclude Gravina, per il contributo determinante dato da lei e dal resto dello staff dello Spallanzani alla ricerca scientifica contro il Covid. Gravina. Gravina. Grazie a tutti